Un aiuto reale per i nuclei familiari in cui siano presenti anziani, disabili o individui affetti da malattie croniche o invalidanti, ma non solo, anche un sostegno materiale o psicologico. Tutto questo è le infermiere di famiglia, un servizio relativamente nuovo e ancora poco conosciuto, presente in Italia in diverse zone, in particolare del centro nord, ma con ambiti da definire e sviluppare. Noi pensiamo che questo modello che già in parte è presente in varie province, macchie di leopardo, insomma, nella nostra regione, possa essere soprattutto nel futuro, dove si prevede un invecchiamento progressivo della popolazione dell'Emilia-Romagna, uno dei sostegni importanti per il nostro servizio sanitario regionale. La cosa importante oggi è agire sulla proattività, quindi arrivare prima che la persona sia male, soprattutto visto che la nostra popolazione è anziana, è anziana ed è sola, per cui arrivare all'interno di una casa e lavorare con la persona sola, anziana, lavorando proprio sullo studio di vita, aiutarlo nella movimentazione, dandogli dei consigli su come gestire la propria solitudine, ma mantenere la salute, è assolutamente fondamentale per evitare poi i ricoveri in ospedale che peggiorano comunque la situazione fisica della persona, quindi è assolutamente importante incominciare a lavorare con questa figura. Tanti i contributi dei professionisti al convegno organizzato dall'Ordine degli Infermieri di Bologna. Molti hanno portato la loro esperienza sul territorio della nostra regione, ma non solo, anche dall'estero. Susan Kent, ad esempio, dirigente del servizio sanitario irlandese, ha parlato delle peculiarità di quel paese, dove è la figura dell'infermiere professionale particolarmente valorizzata. In Italia il governo si è impegnato a coprire le carenze d'organico, ma, dice la Kent, le risorse servirebbero soprattutto per coprire l'ambito familiare. Il governo italiano ha detto in risposta a ciò che è stato affermato dal commissario europeo che triplicherà il numero di infermieri in Italia, tuttavia bisogna capire che questo triplicare non deve essere relativo agli infermieri negli ospedali, ma si dovrebbe appunto sviluppare questa figura di infermieri di famiglia e di comunità, così da fornire le cure a casa o vicino a casa. Questo non toglie che comunque gli ospedali e gli infermieri degli ospedali siano fondamentali, però non ne serve un numero così alto quanto si pensi, perché molte patologie, molte cose possono essere curate in un ambito più domestico e familiare.